Welcome, 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 welcome back with another video. E' sulla base degli insegnamenti originali di Mr. Navigoder della sua Law Assumption, legge degli assunti, legge di assunzione del mio più caloroso benvenuto alle nuove persone che si sono appena iscritte al canale e un ben trovato a tutti gli abituè. Come state? Spero tutto bene, spero che gli ultimi video vi stiano dando sostegno, supporto e aiuto. Oggi faccio capolino, per mettere al capolinea la maggior parte del settore del life coaching che si concentra solo e soltanto sul mindset, sulla dieta mentale. E ne ho ben d'onde, e non sono la sola e l'unica ovviamente, che non tiene in conto il sistema nervoso. Il nostro sistema nervoso ci fa letteralmente pensare cose, quindi non è soltanto penso, quindi è una reazione. E anche ho delle reazioni automatiche nel sistema nervoso che automaticamente mi fanno fare dei pensieri. Quindi è top, dalla cima, bottom, verso il basso, ma è anche bottom top o bottom up. E coloro i quali non hanno studiato e lavorato col sistema nervoso rischiano di fare ancora più casino. Me lo sono tolto da qua perché non ne potevo più, è la mia passione perché tanto tempo fa anche io sono rimasta incastrata in questa situazione di pensieri terrificanti, prima con la vulvodinia, poi con la manifestazione e con qualsiasi cosa eccetera. E non c'è la verso, potevo stare a fare affermazioni tutto il giorno, lavorare sul mio mindset, tutti i migliori strumenti per lavorare sul mindset che puoi immaginare di questo pianeta, che potesse tirarmi fuori dal mio funky funky. È un qualcosa di viscerale, non cognitivo. Le persone che si trovano in questa situazione, che sono disregolate, che hanno il sistema nervoso autonomo sotto sopra, soffrono costantemente e tutto questo tumulto viscerale influenza. Of course, come funziona la mente, che tipo di emozioni svilupperai, il tuo punto di vista, la tua capacità di funzionare. Ogni volta che ti trovi in una spiral di pensiero negativo, il tuo sistema nervoso si attiva, è coinvolto sempre. Non c'è modo di aggirare questa cosa, ok? E quando dici a qualcuno che si trova in uno spiral, Hey, hai bisogno di mantenere in cieca i tuoi pensieri? Hai bisogno di cambiare il tuo mindset? Quella persona non è nemmeno in grado di stare a sentire quello che le stai dicendo. Non c'è. Perché il sistema nervoso autonomo ha preso piede, disattiva le funzioni corticali superiori, e chiunque ha un minimo di infarinatura di neuroscienza lo sa, non i fuffa coach, ovviamente. Quindi, come coach e trainer specializzato in questo, che lavora primariamente col dolore nociplastico, e quindi ora con la legge di assunzione, è impossibile per me lavorare sul mindset di un cliente quando me lo trovo in uno spazio, in un headspace, che non è in linea in quel momento col lavoro sul mindset. Per questo motivo, nella mia nuovissima masterclass incantesimo, crea e mantieni la tua benedetta partnership perfetta con la tua PS, la tua persona specifica. Abbiamo tutto il primo modulo che lavora sul riportare back online, in linea, come si dice in gergo, il sistema nervoso autonomo. Leggi quando sei in quel stato di panico, che non c'è verso, ti senti malissimo, e ti senti che stai per morire, e ti viene da svenire, vomitare, eccetera, eccetera. Tanto per capirci. Il sistema nervoso viene attivato da qualsiasi cosa, molto spesso da indizi, anche nel nostro ambiente 3D. Questi trigger, questi fattori scatenanti, non sono nemmeno cose di cui siamo consapevoli, a livello cosciente, ma il suo conscio vede e legge tutto, percepisce tutto. Altre volte in cui non ti rendi conto di un qualcosa, ti trovi in un totale spiral, e non sai nemmeno per quale motivo, magari sta andando tutto bene. Questo perché il tuo sistema nervoso lavora costantemente per scansionare il tuo 3D, ma anche l'interno, dentro il corpo, eccetera, eccetera. E se avverte un qualcosa, una qualsiasi cosa, per forza o pericolo, guess what? Attiva automaticamente la risposta combatti, fuggi, congelati. Quello stato di... Ah, 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 ok. Quindi prima ancora che tu abbia un pensiero cosciente, quale mindset? Non riesci nemmeno a fare le affermazioni robotiche in quello stato. Qualsiasi cosa che assomigli a un qualcosa che not so good, che non era così fantabombastico in passato? Uh, attiverà immediatamente questa risposta. Scappiamo via di qui, più veloce della luce. Ok? Nel frattempo, tu ti senti strano, strana, e fuori posto, e non sei nemmeno sicuro, sicura di che cavolo ti stia accadendo, non ci capisce più niente. Dici, ma come? Quindi il lavoro sul mindset, la dieta mentale, la dieta linguistica, non si attiva in questo tipo di momenti qui. Allora che cos'è che aiuta? Uno, devi validare di avere il trigger e dello stato in cui sei, avere la prontezza di riflessi, di riconoscere che sei in questo stato. E due, hai bisogno di avere degli strumenti concreti validati dalle neuroscienze per lavorare col tuo sistema nervoso autonomo, per essere in grado di elaborare il momento e tornare back online, tornare con le funzioni corticali superiori e allora fermare, senza sentirti travolto e travolta, è numero tre, avere la capacità, le skill, le abilità, gli strumenti per regolare il sistema nervoso ogni volta che è un trigger. E te lo dico, i trigger ci sono sempre, ci saranno sempre. Siamo esteri completamente diversi quando siamo disregolati nel sistema nervoso rispetto a quando siamo in controllo, in potere, regolati, eccetera. Quando c'è una disregolazione, non c'è accesso al pensiero creativo, le funzioni corticali superiori della corteccia prefrontale e dorsolaterale sono disattivate. You guys, ve l'hanno detto a scuola. Fuffa, coach. Non abbiamo una visione. Rimaniamo così, a tunnel. Siamo bloccati in una scatola. Non abbiamo in linea i processi di pensiero più elevati. Non so come dirvelo. Quando invece abbiamo una coregolazione, il nostro sistema nervoso autonomo è tornato in equilibrio, è tornato in... Sono al sicuro, ora va tutto bene. Sollevo ora. Allora possiamo pensare a nuove idee, lavorare sul mindset, lavorare sulle convinzioni, assunti, decisioni, credenze, chiamarle come vuoi. Possiamo adottare quelle più funzionali, avere una risoluzione creativa immediata e ottenere il risultato desiderato. Il mindset, la dieta mentale, è importante, è basilare. Possiamo affermare che siamo sempre perfettamente focalizzati. Allora il modo in cui focalizziamo la nostra mente conscia, va a influenzare profondamente la nostra mente subconscia. Certo, e le dice cosa creare nella nostra vita. Of course. È solo che, se noi non teniamo in considerazione il sistema nervoso, non siamo in grado di accedere alla mente superiore. ok, mi torna senso. O aiutare, io non posso aiutare i miei clienti a farlo se prima non gli do degli strumenti per regolarsi, per creare quei potenti cambiamenti di mindset che ti fanno ottenere quello che vuoi. Ed è quello che facciamo in incantesimo, che è una masterclass unica nel suo genere, è una vera masterclass, Lectio Magistralis. E io te lo dico, sono la migliore in questo campo in Italia e per quello che ne so, perché insegna manifestazione, là fuori ho lavorato con i migliori all'estero in questi ultimi tre anni. Guess what? Ok? Quindi se hai difficoltà, se non riesci qui e lì e su e giù, io ti consiglio vivamente di venire a bordo di incantesimo per creare davvero un cambio. ma non solo nell'ambito amoroso, in tutti i settori della tua vita. Sono solo 2,97 per un percorso di 31 giorni che praticamente rimane sempre a te con un materiale pazzesco che non troverai altrove è la mia supervisione. E naturalmente se hai bisogno di avere sessioni di coaching, sono inclusi nel programma tre phone sessions tra le sessioni al telefono con me al termine del programma a un investimento molto molto speciale. Chi aveva prenotato con l'early bear da soli 97 o col biddle price a 157 ha fatto veramente un affare incredibile, lo sa. se vuoi maggiori informazioni sicuramente puoi scrivermi qui sotto nei commenti oppure scrivere al mio staff a info chiocciolai da blanche punto com che è la nostra mail rispondiamo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 festività escluse. Se ti è piaciuto questo video ti è stato utile la mia shakerata che ogni tanto le do give the damn bap and that's all for today se ancora non ti sei iscritto e iscritta iscriviti a questo fantastico canale perché questo è il vero e unico miglior canale di manifestazione mindset e creazione intenzionale consapevole della realtà che potrai mai trovare. Ci vediamo alla prossima ciao ciao